Un pizzico di ironia e tanta buona volontà. Sono questi gli ingredienti che hanno messo insieme un gruppo di disoccupati casertano per combattere una piaga della loro terra, la mancanza di lavoro. Così è nato il disoccupato, una linea di prodotti da bar che sarà distribuita proprio da questi ragazzi con la speranza che il progetto cresca e dia lavoro sempre a più persone. La prima uscita, la presentazione davanti alla chiesa del buon pastore a Caserta. In questo periodo non si trova a lavoro facilmente e adesso con questa opportunità di questo dolce disoccupato vedremo un po' di metterci un po' in carreggiata. La speranza è che questo progetto in grani così potrebbe dare anche un'altra opportunità di lavoro per altre persone. Mi realizzo anche io, faccio un qualcosa che mi sento realizzato. Per riuscire il disoccupato ha però bisogno di tante adesioni da parte di bar e ristoranti. Insomma la comunità deve farsi carico anche di questi ragazzi e rispondere bene e unita all'iniziativa. Finora i segnali sono incoraggianti, alcune parrocchie hanno già dato la disponibilità a far presentare il progetto di questi ragazzi fedeli e tanti commercianti stanno rifornendosi da loro. Si stanno costituendo in cooperativa dei disoccupati che trasporteranno questo dolce dalle pasticcerie, perché sono varie pasticcerie, ai bar di Caserta e provincia. Stanno aumentando le adesioni dei bar, stavamo a 110 ieri, oggi contiamo entro stasera di arrivare a 140.